per favore volete assumo un contegno che questo che questo finisce sul sito no che per favore certo è l'ultima elettora abbiamo cominciato col primo grazie progetti questo momento storico ma non mi affannate avete ritirato il talloncino il cito del ballottaggio a maurizio no no a figlio quindi 449 no eh no a me ne dico ho ripetitato le due a questa a fare un po' giusto Renzi 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 è esatto se lo puoi ripiegare un altro caffè versare qualcuno vuoi dire versare e sappia di te Renzi eh bravo allora vieni qua vieni qua Renzi nel Grazie.